Salve ben ritrovati con l'altra campana, nuovo appuntamento oggi nei nostri studi abbiamo il piacere di avere Leonardo De Santis, benvenuto, capo gruppo al comune di Foggia in quota sinistra ecologia e libertà, prima di passare a livello istituzionale anche perché lei sta procedendo seppur in un clima burrascoso al lavoro per la consulta della legalità, ci occupiamo di questioni politiche perché sono quelle che tengono banco, lo vediamo sul nostro sito teleblu.tv, lo abbiamo seguito, ve ne abbiamo dato notizia, a SEL arriva il commissario, tutti diffidati ad agire in nome e per conto del partito, questa è l'ultima decisione arrivata dalla commissione regionale per il congresso all'indomani del fallimento, come sapete del congresso provinciale di SEL, finito De Santis quasi in rissa, se non proprio in rissa perché c'è chi dice, noi non siamo stati testimoni oculari, però fonti credibili credibili ci dicono che addirittura qualche mano sia volata, insomma a testimonianza di un clima che è degenerato. C'era sicuramente un clima degenerato, poi sinceramente io sono rimasto fino alla fine, ho visto degli atteggiamenti che non sono consoni a un congresso politico ma non ho visto volare le mani. Che cosa è successo De Santis? È successo questo, che la pazienza dei compagni a un certo punto è terminata, perché quando si fa un congresso c'è di solito da rispettare un canovaccio per quanto riguarda almeno i tempi, questo canovaccio non solo non è stato rispettato, ma è andato oltre l'umana pazienza. Però dobbiamo uscire, per capirci dobbiamo uscire fuori dal politichezo, se no non ci comprendono. Lo spiego subito. Il problema è questo, in un congresso, io do la mia opinione, in un congresso è necessario parlare di politica, in questo momento particolare dell'Italia, un congresso provinciale, regionale e nazionale di sinistra, ecologia e libertà, voluto e forse non così necessario dal punto di vista organizzativo, ma necessarissimo dal punto di vista politico, avrebbe avuto bisogno, anche a Foggia, di un discorso politico, lo esplicito. Noi siamo, a mio parere, come ha detto qualcuno nel congresso regionale che si è tenuto due giorni fa, siamo praticamente il piede che sta tra la porta e lo stipite per non chiudere la porta in faccia definitivamente alla sinistra. Però anche noi dobbiamo capire che tipo di sinistra vogliamo essere e c'è quella, c'è la posizione che io condivido molto del compagno vendola che probabilmente lascerà la segreteria del partito a questo congresso, che ci rivede nel partito socialista europeo, quindi una sinistra di governo, assolutamente di governo ed europea. Questo è il dato politico? No, c'è un altro dato politico, che c'è una parte invece del partito e che non è minoritaria assolutamente, che rivede invece l'adesione di sinistra ecologica di libertà all'Inca e quindi alla sinistra europea. Questo non è un discorso di poco conto, è del discorso su cui avrei voluto che si fondasse anche il nostro congresso. Capendo le posizioni ci sono stati degli interventi, non soltanto quello del sottoscritto che un po' rappresentava la Federazione dei Foggia, ma ci sono stati interventi anche di compagni del Gargano, ricordo l'intervento preciso e puntuale del compagno Giuffreda, che cercava proprio di dirimere questa questione. Questo nodo non dà poco conto di prospettiva politica. Si è parlato di insoddisfazioni sulla gestione del partito, di incapacità organizzative, di tutta una serie di questioni che a mio modestissimo parere, con un organismo snello e non quello che stava uscendo fuori dal congresso, che diventava un organismo pletorico, perché era addirittura con qualche posizione in più rispetto a quello uscente, avrebbe potuto far sì che il partito sul territorio... Risultasse pachidermico, per tenere dentro tutti, questo è sbagliato. Quindi, De Sandi, si è parlato di posti, di postazioni, di che è? E chi ha parlato di postazioni? Ha parlato di postazioni, praticamente chi non era contento della gestione attuale. E quindi della gestione di Rizzo e chi non lo era? Non lo era, sapete che c'era un'altra candidatura a segretario, che è quella di Rendina, rispettabilissima, supportata da Manfredonia, da una parte di San Severo, da una parte di San Nicandro, Garganico e via dicendo. Allora, il problema non è il nome di Rizzi, il problema è che cosa vogliamo fare. Siccome io non ho sentito che cosa vogliamo fare, per questo Foggia e le persone che Foggia rappresenta, sono rimaste in stand by, perché io non ho sentito una proposta politica, ho sentito una proposta di cambiamento, ma il cambiamento lo faccio su una proposta politica, non lo faccio solo sugli uomini, perché questa cosa non mi convince, non mi ha mai convinto. Come mi fa piacere che finalmente Sinistra Ecologia e Libertà, che è uno dei pochi partiti donna, diciamo, perché si chiama La Sella, toglierà quel conventolo da sotto il… Quindi spersonalizziamo anche da questo punto di vista. Quindi spersonalizzerei anche la questione sul territorio, perché non credo che se questo mostro di Rizzi, perché voi sapete che comunque con Rizzi non è che è corso buon sangue tra i meri, tutta la vita, si discute, però non è che io togliendo un tappo ne devo mettere un altro, io devo cercare di far sì che tutte le risorse che ci sono all'interno di questo soggetto politico collaborino per farne un soggetto politico un po' più aperto e per questo ci fu quella proposta, apriti se, non so se qualcuno la ricorda, che era quella proposta di dire facciamo un congresso diverso, facciamo intervenire tutti, tutti coloro i quali sono anche simpatizzanti di questo, e facciamoli votare, perché se viene da noi… Una sorta di primaria anche per… No, io sul primario ci credo poco e spiego anche il perché. Dopo quello che è successo anche da noi, a Foggia, alle primarie per le parlamentari, a San Giovanni Rotondo, dove hanno votato persone che secondo me non esistono, io alle primarie ci credo poco, perché sono sempre le truppe cammellate che si immobilitano. Eh, questa è una cosa gravissima, che tiene la responsabilità della Commissione e poi deputata a vigilare. E infatti a noi sono state annullate. Quello che voglio dire è che io il processo di crescita di un partito lo vedo nelle idee. Allora, se parliamo e ci sono delle idee, e queste idee vengono dalla società civile, dalla sinistra che sta più a sinistra di noi, da un'altra parte, io le devo prendere. Certo, è condivisibilissimo De Sandis, da qui all'assenza di idee e alla richiesta di posti, mettiamola in questi termini, a la degenerazione totale che fa saltare il congresso, come ci si arriva? Ci si arriva capendo che il congresso andava gestito su, come ho detto prima, su un'idea di partito, non gestito su un'idea di persone. Il problema è stato questo. Quindi al momento della nomina, se non mi sbaglio, delle nomine all'interno del coordinamento provinciale, scusami. Del coordinamento, che poi era diventato un organismo enorme. Un organismo enorme, perché praticamente c'erano dentro tutti. Allora a quel punto facciamo un'assemblea, facciamo prima. Devo dire la verità, il segretario uscente su questa cosa è stato molto aperto da un certo punto di vista, perché ha capito che nonostante i numeri fossero dalla sua parte, non poteva assolutamente esimersi dall'aprire completamente alle nuove forze il partito. Quello che secondo me è mancato, è mancata la fiducia delle altre componenti in questa cosa. Perché dire che De Santis è dalla parte di Rizzi e voterebbe Rizzi è veramente una presa di posizione. Evidentemente De Santis mi permette anche il risultato di ciò che si è seminato. Con questo non mi riferisco soltanto al segretario provinciale, perché poi si parla sempre di collegialità, almeno così dovrebbe essere, soprattutto in un partito come quello di sinistra, che poi decanta tanto, come dire, paventa tanto di non voler fare la stessa cosa della destra, quindi dei partiti berlusconi molto padronali, quindi si presume che abbia una collegialità maggiore. Chiedo scusa, quindi anche ciò che si è seminato, quello che raccoglieva. Allora facciamo proprio su questo, visto che c'è stata la domanda, ritengo che ci possa essere un bel esempio da questo punto di vista. Si è seminato, si è seminato in provincia e si è seminato a Foggia, credo che si sia seminato diversamente e sinceramente vedere che il raccolto di Foggia vada buttato per una semina sbagliata in provincia, questo a me dispiace moltissimo. E come se ne esce De Santis? Se ne esce, io spero che se ne uscirà con l'intelligenza e la capacità del nuovo coordinatore regionale Cataldo, dei parlamentari con i quali ho parlato durante il congresso regionale, che vedono questa come l'occasione di fare finalmente una scrematura sulle idee e non sulle persone e quindi di ripartire con un'idea che ci veda finalmente fare politica, così come si è fatta su questo territorio, con iniziative quotidiane, con il lavoro del gruppo consigliare che d'altronde nel comunicato che il regionale ha fatto viene tutelato. Si viene tutelato, sì, i livelli istituzionali devono essere assolutamente tutelati, parla in maniera, lo leggiamo insieme, parla in maniera anche dura, in qualche modo sconfessando anche tutto quello che si è fatto fino ad oggi, perché nel momento in cui si parla di rilancio a tutti i livelli, ricostruzione, evidentemente c'è una degenerazione non più sanabile, almeno quella attuale. La situazione che si è venuta a creare nella federazione di Foggia va analizzata nelle sue radici, ecco quello che intendevo dire, rappresenta un bonus per l'intero partito regionale e nazionale. Siete un neo importante all'interno del panorama di Selle in questo momento, peraltro non avete avuto delegati al regionale, abbiamo un commissario deputato a tenere le redini della trattativa alla vigilia degli amministrativi a Foggia, cioè questa è una cosa gravissima. Sì, è una cosa gravissima per varie ragioni. Cioè voi siete esautorati dal trattare rispetto a quello che è il cantiere che dovrebbe essere già aperto e che peraltro ancora... Diciamo che per evitare problemi la nota è stata scritta in questa maniera che io condivido. Molto probabilmente nel dire che vengono tutelati i livelli istituzionali significa anche voler dire che vengono tutelate le questioni che sono state portate avanti fino adesso, ma non più oggi in autonomia, ma andranno condivise. Quindi sapete benissimo che Siste Ecologia e Libertà nel gruppo consigliere di Foggia aveva avviato un patto di consultazione. Sì, con il socialismo down... Ma non è con chi, perché è aperto, quindi potrebbero entrare domani anche l'ultimo dei cittadini e farne parte a pieno titolo. Il discorso è un altro, che avevamo cercato di cambiare il metodo, perché quando sento il segretario cittadino del PD, o io sono stato in una trasmissione televisiva con il consigliere Pontone, dirci che loro il candidato sindaco ce l'hanno ed è Mongelli, ben venga Mongelli perché io a Mongelli voglio bene, però il problema è un altro. La difficoltà politica che ha incontrato questa amministrazione è stata quella di non aver prima, prima della candidatura di Mongelli, che nonostante tutto è stata calata da Sinistra Ecologia e Libertà, che ancora non esisteva, ma comunque dal Presidente Vendola è stata calata sulla testa di tutti e è andata bene a tutti, non aver prima però deciso quali erano le priorità e qual era il percorso da tenere. È vero, Mongelli si è trovato in un clima di guerra, d'accordo, ma avremmo potuto insieme alla guerra fare la ricostruzione, se avessimo avuto la forza di delegare o di tenere in considerazione anche quelle forze minori, ma che avevano per la città una visione quantomeno, voglio dire progressista. Mongelli ha centrato troppo su di sé, non fidandosi. Mongelli non si è fidato giustamente dai tempi precedenti, ma questa era un'altra amministrazione, c'erano persone alle quali lui si sarebbe potuto affidare molto di più e oggi, io glielo dico proprio così, come se fosse di fronte a me, oggi ha ancora questo difetto, nel senso che una scelta di campo tra le forze che non saranno assolutamente per forza le stesse dell'altra volta, lui dovrebbe cominciare a farla, perché altrimenti se si troverà nella futura campagna elettorale, dovrebbe sconfessare quello che è stato il suo sindaco, la persona per la quale ha lavorato e questo a noi non piace, sinceramente, ma io la scelta di campo, ancora non l'ho vista, ho visto un sindaco appiattito, sinceramente glielo dico, glielo ho detto più volte, ma qui lo dico pubblicamente, su delle posizioni di un partito democratico che fino a ieri era diviso e non era un partito democratico, era il partito anche lì personalistico di due, tre, quattro fazioni. Io spero che adesso con il nuovo segretario, con la nuova visione, che farà bene anche a noi, le cose possano cambiare, perché anche, lo dico sinceramente, l'evoluzione del partito democratico e il fatto che ci siano giovani ragazzi, ci siano, ma potremmo fare i nomi, da Frattarolo a Pastore a Lusi, cioè ci sono delle giovani menti che comunque non hanno pregiudizi in questa città e che comunque potrebbero condividere un percorso, questo a noi fa molto piacere dal punto di vista… Avranno spazio, ad esempio? Sì, io credo che loro avranno spazio, avranno spazio perché è giocoforza avere spazio in questo momento. Con personalità comunque ancora ingombranti politicamente, nel senso che hanno un loro peso, quantomeno in città, avranno spazio. Devono avere l'intelligenza poi di… hanno avuto adesso lo spazio negli organismi, devono avere l'intelligenza di non dividersi e di avere spazio poi nelle rappresentanze istituzionali e quindi essere eletti. Dovranno usare questa accortezza, che dovremmo usare anche noi, nel senso che noi avremo un sistema elettorale diverso dove sarà, come qualcuno ha detto, una carneficina perché ci saranno più di mille candidati e ci sarà praticamente la difficoltà ad essere eletti perché saranno 32 invece di 40, già prima era difficile. Cioè lei praticamente dice, in questo caso al sindaco sciente, si sleghi da quelle che sono… Diventi lei il promotore di una campagna elettorale se la campagna elettorale la vuole fare, così come ho capito. Così come ha dichiarato, insomma. Perché? Peraltro noi abbiamo notizie di una candidatura più o meno già sdoganata anche in quotazella dell'assessore regionale al bilancio di Nord. Noi abbiamo avuto molti incontri, l'ultimo è stato nella Tavola Tonda che mi ha avuto Ne avete parlato con Vendola di questo? No, assolutamente no. Questo voglio far capire. La situazione non è assolutamente definita e non è detto che sia più bello Leo Di Gioia, di Gianni Mangelli o di Leonardo De Sanso di Michele Si sbarra. Noi vorremmo capire qual è la squadra e sinceramente io non lo riesco ancora a capire. Se non ci fosse stata l'anticipazione politica di un patto di consultazione su temi, abbiamo fatto conferenze stampa, abbiamo portato la questione dell'ASI, porteremo la questione dell'ambiente, della legalità la sto portando tutti i giorni, della cultura, tutti questi temi. Io su queste cose ho visto soltanto alcune forze, che sono i Verdi, che sono il Socialismo d'Auro, che è SEL, che sono alcune grandi associazioni cittadine, ma non hanno visto la grande mole dei partiti tradizionali, perché i partiti tradizionali probabilmente questo metodo ancora non l'hanno appreso. Non ritiene De Santis che poi sia vendola a gestire le sortire di Foggia? Abbiamo uno di Mongelli, probabilmente avremo gioia, comunque avrà bisogno anche di un piaccio. Non crede che sia il Presidente della Regione Fuglia a gestire le sortire di Foggia? Dobbiamo dirci una cosa molto importante, questa volta le cose sono partite da noi, poi probabilmente si sono interrotte anche grazie ai metodi poco urbani di chi ha partecipato a questo congresso, che ci ha fatto un danno enorme, perché aver iniziato un percorso non solo dal basso, ma che dura da 4 anni, perché le battaglie che hanno caratterizzato Sinistra, Ecologia e Libertà, dalla riduzione dei costi della politica, dal Fidio Sioni che sappiamo che cosa è successo, io ricordo che la prima volta che presentai l'ordine del giorno per la riduzione dei costi della politica, fui attaccato, è storia, da tutti, da tutti, da tutti, allora io dico tutto questo lavoro, avrebbe dovuto essere il momento della raccolta, invece abbiamo buttato tutte le ortiche, De Santis, il Congresso nazionale, probabilmente ci sarà una deroga, mi diceva che vi hanno ammorbidito la posizione, probabilmente ci saranno posti anche per i delegati di Foggia, il congresso si farà il 16 gennaio, prima però a questo punto dovrete fare questo congresso straordinario e immagino che non ci sarà molto tempo per prepararlo e per discuterlo, evidentemente dovete arrivare già con le idee chiare, altrimenti è il caso di dire ve lo impongono dall'alto. Io le dichiaro in Leo, una via d'uscita c'è? La via d'uscita c'è assolutamente, in questo momento, io lo dico con il bene che voglio a tutti, la via d'uscita è una terza strada, la terza via. E chi incarna la terza via? Non facciamo la stessa errore che fanno gli altri, la terza via incarna il rinnovamento, cioè l'apertura del partito all'esterno. Se io ti dicessi, incarna Giuliano Volpe, o incarna Leonardo De Santis, incarna Lino del Carmine, o incarna Giuseppe Beccia, farei un errore madornale. Magari le incarna anche un foggiano, non è che siamo sempre quelli più chiusi. Assolutamente, però il punto è, capiamo che dobbiamo fare questo passo, perché altrimenti rimaniamo il partito a foggio del 3,5%, se lo capiamo. Entriamo nel PD, De Santis, facciamo questa funzione. Guarda, sinceramente, il PD così, lo dico così, togliamo ogni dubbio a chiunque, il PD così come sta rinascendo, crescendo, e se è vero che si iscriverà al Partito Socialista Europeo, mi vede come un suo attento osservatore. Quindi potrebbero esserci le condizioni. Presidente della consulta per la legalità, anche questa, tanto combattuta? La consulta per la legalità non ha assolutamente me come figura presidenziale. La consulta per la legalità è uno strumento per questa città, se non faremo in tempo a chiudere questa partita entro questa consigliatura, sarà l'ennesimo flop di questa amministrazione, che invece di vedere il bene per la città, perché è uno strumento che noi consegniamo nelle mani della prossima amministrazione, che gestirà come crede, ma con un regolamento, noi avremmo fatto un danno, un ulteriore danno a questa città, è un lavoro sprecato. Qualcuno di voi ha seguito i lavori, sono venute più di 100 associazioni oltre alle scuole. C'è un enorme bisogno di legalità in questa società e c'è un enorme voglia anche di partecipare a questo riscontro. Enorme voglia di partecipare. Quindi sì, posso condividere evidentemente la percezione. Però lo diciamo in televisione, ieri c'è stata la prima riunione della Commissione Regolamenti che è andata a deserta. Le nostre forze politiche non si smentiscono mai. Eravamo quattro, non faccio i nomi, ma eravamo quattro su otto. Questo non deve accadere, nel senso che quando io ho la disponibilità di un vicepresidente dell'opposizione, che è disponibilissimo a lavorare e che quando lavora... Andella? No, 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 Ersitti. Quando lavora, china la testa e lavora e dà spazio a tutti. Io non posso perdere l'occasione. Evidentemente è l'unico a pensarla in questo modo, De Santis. Non so se deve rassegnarsi o se deve... No, io non mi rassegno. Mi dispiace. Va bene. Allora, seguiremo gli appuntamenti, l'evoluzione di questo problema, perché è un problema rispetto a Sinistra Ecologia e Libertà, rispetto al campo della sinistra, alla vigilia in particolare delle amministrative. Voi, in quanto livelli istituzionali e amministrativi, siete in qualche modo legittimati ad operare, altri no, siamo tutti sconfessati. Speriamo di avere quanto prima anche qui il commissario, in modo da poter riporre qualche domanda, anche sul percorso che intende portare avanti, perché noi abbiamo un appuntamento cruciale. Io lo farò presente, perché magari sarebbe carino che tutti ascoltassero qual è la posizione poi ufficiale. Grazie Lesanti. Grazie a voi. A voi tutti, ci vediamo domani, arrivederci. Grazie a voi.